Buone! Qui con me c'è Ghidini del saltante. Ragazzi allora, oggi vabbè, derby, partita tosta, si sapeva. Ma oggi è stata una partita non facile, sapevamo contro chi andavamo a giocare. All'andata ne avevamo prese 10, il ritorno è andata come è andata, voglio fare i complimenti a loro, a noi serve qualcosa in più, ma va bene così, dai, partiamo dalla prossima e vediamo che vada meglio. Che c'è? Ci sono stati i 9 acquisti, io, c'è stato il Terry e il Lino e niente, adesso è martedì, ci alleniamo e ci alleneremo per domenica prossima, che saremo a Brisino sulla da loro. Ragazzi allora in buca nuovo per la prossima e buona domenica chiaramente. Grazie a voi! Grazie a voi!